Carissimi fratelli e sorelle, buon ascolto del Vangelo di oggi 28 agosto, Vangelo secondo Matteo 23, 13, 22. In quel tempo Gesù parlò dicendo Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei Cieli davanti alla gente. Di fatto non entrate voi e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra, per fare un solo proselito, e quando lo è divenuto, lo rendete degno della genna due volte più di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite, se uno giura per il Tempio non conta nulla, se invece uno giura per l'oro del Tempio, resto obbligato. Stolti e ciechi, che cos'è più grande, l'oro o il Tempio che rende sacro l'oro? E dite ancora, se uno giura per l'altare, non conta nulla, se invece uno giura per l'offerta che vi sta sopra, resto obbligato. Ciechi, che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che rende sacra l'offerta? Ebbene, chi giura per l'altare, giura per l'altare e per quanto vi sta sopra, e chi giura per il Tempio, giura per il Tempio e per colui che lo abita, e chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi è assiso. Parola del Signore Buon ascolto del commento al Vangelo a cura di Don Luigi Meripicoco. Meditiamolo insieme. La lunga invettiva che Gesù riserva agli scribi e farisei non è qualcosa che riguarda il passato, ma la continua tentazione di ridurre l'esperienza di fede a schemi, paletti, ideologie, e voler costringere gli altri ad entrarci dentro. Quante esperienze ecclesiali, movimenti, comunità, teologi, predicatori si ammalano della malattia di voler ridurre la potenza del Vangelo a uno schema dentro il quale la realtà deve entrare a tutti i costi? La parola ci ricorda che lo Spirito soffia dove vuole e fa quello che vuole e noi siamo solo chiamati ad accorgerci di Lui e a seguirlo. E' stato così per un uomo grande come Sant'Agostino, di cui facciamo a memoria oggi. Anche lui ha dovuto liberarsi dei suoi schemi, dalla trappola della sua stessa genialità, dalle derive eretiche dei manichei, da una vita dissoluta, per poter fare l'esperienza spiazzante dell'amore di Dio. Da quell'incontro reale con il Signore, Agostino nesce nuovo, rinnovato, disposto a cambiare tutte le sue idee. Non c'è più in Lui la deriva del fariseo, dello scriva, che difende i propri schemi, ma la gratitudine di chi finalmente ha scoperto la grazia di Dio. E le sue stesse parole nelle confessioni lo testimoniano. Tardi, tu amato, bellezza così antica e così nuova, tardi, tu amato, tu eri dentro di me ed io fuori, e là ti cercavo. De forme mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Tu eri con me, ma io non ero con te, mi tenevo lontano da quelle creature che non esisterebbero se non esistessero in te. Mi hai chiamato, il tuo grido ha scorciato la mia sordità, hai mandato un baleno, il tuo splendore ha dissipato la mia cicità, hai fuso il tuo profumo, l'ho aspirato e ora nella te. Ti ho gustato e ora ho fame e sede di te, mi hai toccato e ora ardo dal desiderio della tua pace.